a novara a pochi passi dal centro storico in zona ben servita arte casa ti propone in vendita questo attico di nuova costruzione al quarto piano con un'ottima triple esposizione sud est ovest l'ingresso è living su un ampio salone con accesso al grande terrazzo cucina abitabile tre camere da letto tre bagni e una grande auto rimessa con la possibilità di acquistarne anche una seconda come potete vedere questo appartamento è ancora rustico avanzato per potervi permettere di scegliere le finiture di vostro gradimento da un capitolato di altissimo livello così e ancora la camera da letto e il terrazzo con vista molto aperta che può essere allestito in questo modo per tutte le informazioni e scoprire le agevolazioni fiscali sull'acquisto di questo immobile contatta arte case immobiliare arte casa l'arte di vendere case